Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose, non lo impedite, perché chi non è contro di voi, è per voi. Chi è il più importante nella Chiesa? Il Papa, i Vescovi, i Monsignori, i Cardinali, i Parrocci delle Parrocchie più belle, i Presidenti delle Associazioni, laicali? No, è più grande nella Chiesa, è quello che si fa il servitore di tutti, quello che serve tutti, non che ha più titoli. La strada contro lo spirito del mondo è una sola, l'umiltà, servire gli altri, scegliere l'ultimo posto.